Signori, è finalmente realtà! Scaricare FPS è possibile! Con l'ultimo aggiornamento di Windows, infatti, sembra che Ryzen 9000 si sia un pochettino rimesso in pista, ma non solo lui, e di contorno dobbiamo parlare di questa cosa. Comunque sono successe un insieme di cose riguardo AMD e Windows che incrementano le prestazioni dei recenti processori di AMD e non solo, e dobbiamo parlare assolutamente perché la situazione è nettamente complessa, soprattutto perché le recensioni che sono uscite il 14 agosto fondamentalmente sono ancora giuste, ma hanno bisogno di qualche precisazione extra, quindi seguitemi un attimino che andiamo per ordine. Ora, avrete notato che, ovviamente, durante le prime due settimane di agosto sono uscite prima le recensioni dei Ryzen 9000 più piccoli, i 5 i7, e poi quelli che invece sono i maggiori, ovvero i Ryzen 9. Io ho fatto la recensione sul Ryzen 9 9950X, e questo processore, sotto certi punti di vista, mi è risultato anche simpatico, come per esempio il fatto che le temperature fossero veramente eccellenti se paragonate a quelle della generazione precedente, anche di fronte agli X3D, che sono generalmente un po' più contenuti in termini di consumi e temperature rispetto a quella che invece è la natura, per esempio, dei modelli lisci. Nonostante i consumi maggiori, le temperature sono inferiori, e questo è molto positivo. Oltre a questo, nell'ambito della produttività, qualche accenno di prestazione extra effettivamente si poteva notare, anche se siamo tutti quanti coscienti che le CPU per questa generazione hanno fatto un salto abbastanza piccolo rispetto ai Ryzen 7000, e comunque in generale non troppo distanti anche da quella che è l'offerta ancora stagnante di Intel, con Intel 13000 e 14000. Questo specialmente se parliamo dell'ambito del gaming, perché alla fine è lì la vera nota drammatica, con giochi come per esempio Cyberpunk, che effettivamente riportano 9950X, nella linea prestazionale del 7700X, risultati che hanno fatto parlare largamente. Mentre io ero in ferie un pochettino alla Gamescom un altro po', sono usciti alcuni video, soprattutto sul canale di Hardware Unboxed e di Gamers Nexus, in cui si argomentava un pochettino quali potessero essere le possibilità, magari abbiamo sbagliato qualcosa noi. Ci sta, alla fine, il lavoro dei recensori è questo. Mi sono un pochettino messo a guardare questi contenuti, mi sono informato, ho fatto qualche piccolo test qua in studio, con il tempo limitato che ho avuto, vediamo un attimino di capire. Punto numero uno, la prima questione è che AMD, a differenza di Intel, è capace di fare i blog post, ovvero sa parlare con il suo pubblico, qui davanti abbiamo appunto un blog post riguardo a Ryzen 9000, entro poche settimane da quando succedono i problemi. Lo so, è incredibile, cioè, questo post è uscito mercoledì, durante uno dei mesi più infuocati e con meno personale in assoluto che un'azienda possa avere, sono riusciti a fare un post. Hai visto Intel? Mamma mia! Non servono tre mesi per rispondere a una controversia che ti abbatte l'azienda. Mamma mia! Cosa ci dicono? AMD ha indirizzato un pochettino delle cose che sono state chieste per quanto riguarda appunto le recensioni. Perché i dati di AMD sono diversi dai recensori? Questa è una domanda importante perché i recensori hanno sempre delle reviewers' guide, ovvero semplicemente delle linee guida con cui si possono interfacciare, con quelli che sono i dati ottenuti dalle aziende, più o meno dovresti sapere a grandi linee quello che ti dovresti aspettare dal prodotto, ecco, per sapere se i tuoi test sono corretti o meno. I test che sono stati forniti ai recensori effettivamente riportavano delle prestazioni nettamente diverse da quelle che poi si sono ottenute in gioco, l'avete visto? Io stesso ero molto in dubbio quando ho recensito il 9950X, perché i risultati erano talmente bassi rispetto alla generazione precedente, talmente vicini, che la cosa non mi tornava proprio. Però, a quanto pare, poi tutte le recensioni hanno confermato questi miei dubbi, questi miei sospetti. Effettivamente, però, AMD spiega che queste differenze potrebbero essere causate da una suite di giochi con un largo numero di sports, di giochi triple A, di giochi un po' più vecchi, che hanno tutte queste combinazioni di CPU e GPU, che potrebbero influenzare o meno le prestazioni. È vero, è oggettivamente vero, è molto complesso a creare delle recensioni paragonabili uno a uno. Diciamo però, ragazzi, che quando si fanno delle recensioni, il prodotto è in mano a persone esperte, e a meno che non ci siano delle gravi limitazioni, di cui non si è coscienti, effettivamente è difficile che ci siano delle grosse differenze tra le generazioni. Ci possono essere magari dei risultati differenti, magari a uno fa 200 fps, a uno ne fa 180, ma se entrambi poi abbiamo una differenza, per esempio, del 3% con la generazione precedente, poco ci importa che siano 9 o 7 fps, capito? Mi seguite. Insomma, quel che conta è la differenza percentuale, non tanto quanti fps fai. Cioè, serve che i dati siano in linea tra tutte le recensioni. Se una recensione dice che c'è una differenza del 20% tra i due top di gamma e l'altra dice il 5%, qualcosa non torna. Oltre a questo, dice che AMD ha testato le configurazioni di Intel usando una memoria paragonabile, tra le due tipologie, quindi con delle DDR5 da 6000 MHz, e sono in realtà cose che ho fatto anch'io. Questi sono due banchi da 16 GB di RAM, 6000 MHz, Dominator, Titanium, e questi sono, indovinate, due banchi da 16 GB, 6000 MHz, Dominator, Titanium. Esattamente uguali. E per quelli che mi vengono a dire che magari Intel beneficia dei 7200 MHz, vi ricordo che ho fatto un video a riguardo. E potete andare a vedere quanto la differenza effettivamente sia nel range di qualche punto percentuale, quindi lì per sé tra 7200 e 6000 MHz in realtà. Non ci sia tutta questa differenza. Oltre al fatto che al momento attuale AMD possa effettivamente supportare anch'essa con la velocità e in qualche caso ne beneficia a sua volta. Quindi se da una parte prendi o dall'altra togli, sei sempre in pari. Questo è quello che conta. Terzo punto, ho detto che AMD ha testato con Windows Virtualization Based Security, la VBS, VBS attivata. Questa è un'impostazione di sicurezza che effettivamente può ledere in qualche modo le prestazioni. Però se effettivamente andate a vedere nella mia recensione del 9950X, nella parte delle test bench, potete vedere elencate tutte quante le impostazioni che ho utilizzato in generale per quanto riguarda Windows, l'hardware, la combinazione delle test bench e bla bla bla, e potete vedere che effettivamente la voce del VBS è riportata come attivata. Quindi di per sé nessuna differenza per ora. Poi dice che c'è questa modalità admin. Quanto pare se tu lanci il sistema come admin, quindi non unico account che è anche admin, ma proprio sistema admin, effettivamente a quanto pare hai dei benefici per quanto riguarda i test. Questo è stato confermato da alcuni test su internet, però effettivamente anche lì non era sta grande differenza prestazionale da giustificare magari un 15% di differenza tra i miei test e quelli di AMD, per esempio. Infine AMD ragazzi ci propone una soluzione basata su Windows e un suo aggiornamento che si è rivelata essere in realtà quella più funzionale in assoluto. L'aggiornamento alla versione 24H2, specificatamente nella build 26.100, effettivamente porta dei benefici in gioco notevoli. AMD qui ci riporta un delta tra il 3 e il 13% per quanto riguarda gli incrementi prestazionali, ma benedetto l'uomo senza ferie, Hardware Unbox ha fatto ben 40 test in gioco tra il 7700X e il 9700X prima e dopo questo aggiornamento. Vi assicuro che le differenze sono veramente sostanziali. Prima di tutto vi lascio il linkato al suo video giù in descrizione perché è veramente fatto bene e si merita le visualizzazioni. Ma prendendo un pochettino di quello che è il contesto che ha visualizzato, che tanto ormai è stato riportato su tutte le testate del mondo, abbiamo effettivamente degli incrementi prestazionali molto interessanti. Sotto abbiamo la versione precedente build 22.631, sopra abbiamo la 26.100 e come potete vedere le differenze prestazionali su un po' tutti i giochi sono molto interessanti. Per esempio si passa da 167 a 181 FPS per quanto riguarda il 7700X. Questo è uno dei pochissimi giochi a setto corsa competizione su cui abbia visto un reale beneficio della serie 9000. Potete vedere però che l'incremento non riguarda soltanto il 9700X, ma anche il 7700X. In realtà sono numeri abbastanza simili. Sopra abbiamo 14 FPS, invece per il 7700X ne abbiamo 16. Più o meno siamo lì, in realtà in percentuale ha guadagnato di più il 7700X, però di per sé non sta guadagnando solo Zen 5, come invece ci riporta AMD sul suo blog post. Anche su giochi come per esempio Rocket League, un pochettino più vecchi che magari non ti aspetti che abbiano dei benefici effettivi, potete vedere come ci sia un incremento di FPS veramente sensibile, che è quasi 150 per il 9700X, quindi già sopra il 15%, ma anche ovviamente per il 7700X. Questo aggiornamento di Windows sembra essere veramente molto molto interessante. Ci tengo a prendere un attimino questo test di Gears 5, sempre da hardware unboxed, perché potete vedere che l'incremento prestazionale in questo caso è veramente assurdo. I due processori rimangono pressoché in pari per quanto riguarda l'esperienza generale, anche il 1% low come potete vedere rimane parecchio simile, però effettivamente guardate l'incremento prestazionale, sta parlando di 188 che diventano 254 FPS. Cioè questo gioco ha un beneficio assurdo effettivo da questa nuova versione di Windows. Non mi spiego come sia possibile un salto del genere. Situazione invece diversa per esempio su Halo Infinite, qui potete vedere 226 che diventano 236 FPS, in questo caso siamo in una situazione abbastanza simile. Come potete capire ci sono degli incrementi più o meno alti e bassi. In generale però come potete vedere il 9700X effettivamente ha un guadagno medio, che culmina con un Gears 5 che prende questo 35%, incredibile, ed effettivamente ci sono vari titoli così, ma non ha nessun tipo di perdita nell'effettivo. Cioè le uniche cose che non fanno differenza sono per esempio Starfield, Skull & Bones e Showdown 1896, che vanno allo 0%, ma non perde un singolo punto percentuale, guadagnando circa l'11% in media in 1080p. Per quanto riguarda il 7700X però la situazione è pressoché uguale. Certo c'è qualche guadagnino in meno per una media totale del 10%, ma alla fine effettivamente sono aumentate più o meno in maniera parallela le prestazioni di questi due processori. Cosa che ci porta a dire che alla fine, sì, effettivamente rispetto a Intel c'è stato un guadagno effettivo, quindi hanno preso questo 10% in più di prestazioni, che creerà un ulteriore distacco rispetto alla Casa Blu, rendendo molto più appetibili questi processori, ma il fatto che Zen 4, quindi il 7700X, abbia guadagnato tanto quanto il 9700X, mi lascia un po' perplesso, perché alla fine della fiera vuol dire che, sì, rispetto a Intel siamo meglio, ma rispetto a noi stessi no, perché se guadagniamo esattamente lo stesso, alla fine la situazione rimane esattamente come quella che abbiamo visto nei miei grafici della recensione, in cui i processori delle due generazioni rimanevano veramente molto molto simili, con alcune situazioni anche un po' peculiari, in cui il 9950X si andava praticamente a pareggiare al 7700X. Situazione un po' strana, devo dire. Speravo che l'incremento prestazionale creasse un minimo divario tra le due generazioni, ma in questo caso, come possiamo vedere, è abbastanza simile. Ultima cosa interessante che prendiamo dal signor Hardware Unboxed per questo commento, è che ha testato anche Intel. Bravo, bravo. Steve, sei un santo. Steve Walton, grazie. I due uomini che fanno più bene a questa community si chiamano entrambi Steve e li ringraziamo sempre. Grazie Steve Walton. Il 14600K, come potete vedere, con alcuni test ci viene riportato che effettivamente non ha dei benefici. Praticamente potete vedere che il 9700X effettivamente incrementa di praticamente 30 fps rispetto alla sezione precedente, mentre il 14600K rimane stabile. Non vuol dire che ovviamente qui stia perdendo qualcosa, però al tempo stesso non c'è un incremento. probabilmente era già ottimizzato. Situazione uguale anche su Cyberpunk 2077, in questo caso con la versione del DLC Phantom Liberty. Potete vedere 157 fps e 120 di 1% low erano e rimangono uguali anche nella nuova versione. Quindi di per sé niente di nuovo all'orizzonte. Mentre in questo caso potete vedere come il Ryzen 7 passa ad essere inferiore all'i5 a migliore. Certo, non di tantissimo, siamo praticamente in pari, l'esperienza finale sarà la stessa, anche perché il 1% low è completamente uguale, ma effettivamente migliora. Anche qui potete vedere 187 fps vengono perfettamente pareggiati su Far Cry 6 dal 9700X. Certo, diciamo che la situazione sarebbe potuta essere un po' migliore, perché comunque il 14600K non è che sia sto processore grandemente innovativo. Pareggiarlo non è proprio un vanto, ecco. Però effettivamente lo fa. Unico gioco in cui effettivamente c'è un miglioramento per quanto riguarda anche Intel, potete vederlo, è su Gears 5, dove il 14600K recupera effettivamente in maniera consistente terreno, così come lo fa il 9700X, che parte svantaggiato all'inizio, ma ottiene un risultato nettamente migliore alla fine. Quindi di per sé comunque il campione per questo miglioramento, l'abbiamo visto, 35%, è effettivamente il 9700X, la nuova generazione di AMD. Hardware Unboxed però non è l'unico che ha fatto questi test, infatti se prendiamo qui il nostro caro amico Leo, che vedo a tutte le fiere, è troppo carino, guardatelo, Leo. Cioè voi immaginate, siete a una fiera internazionale di hardware, e compare Leo, col suo microfono, il suo cameraman, commenta tutto quello, è bellissimo. Ogni volta che vado alle fiere, il mio obiettivo è vedere Leo. Passando ai suoi test invece, potete vedere che ha testato anche il 7800X3D, su cui avevo dei dubbi, ed effettivamente potete vedere come, per esempio su giochi come Far Cry 6, si noti comunque un miglioramento, per quanto un pizzichino più marginale, anche qui per la nuova versione di Windows, quindi positivo, anche gli X3D tendono a migliorare effettivamente in questo caso, quindi molto molto bene. Oltretutto, piccola cosa interessante, lui ha aggiunto un test con 9950X, in cui qui ha attivato e disattivato il VBS, e sembrerebbe che effettivamente ci siano 10 FPS di differenza trattenuti da questa impostazione, praticamente un 5%. Che il VBS influenzi positivamente o negativamente le prestazioni, lo sapevamo, però effettivamente è una cosa di sicurezza di Windows, quindi un po' come la Core Isolation, la disattivi a tuo rischio e pericolo. Per i test, io solitamente la tengo attivata. Altro test molto interessante che ha fatto Kit Guru, anche il suo video ve lo lascio linkato giù in descrizione, è che effettivamente in 1440p, potete vedere come tra le due versioni di Windows, effettivamente non si notino praticamente differenze, con e senza il VBS attivato. Effettivamente nemmeno il 7800X3D riesce a carpirne qualcosa, il che è molto interessante, perché potrebbe anche semplicemente voler dire che sia molto situazionale dove funzioni o meno questo miglioramento di Windows. Per esempio potrebbe essere soltanto in 1080p, potrebbe essere solo con certi processori, non ci resta che rimanere un attimino in attesa, guardare il più ampio spettro possibile di recensioni e cercare di capire qualcosa. Se ci affidassimo soltanto alla recensione di hardware unboxed, ovviamente la nostra opinione sarebbe che effettivamente ci siano delle differenze particolarmente grosse. E in questo caso invece potete vedere che abbiamo insomma dei test che ci danno uno spettro un po' più ampio di comprensione. Al tempo stesso, in giochi come Total War Faro, dove il processore conta tantissimo, abbiamo potuto vedere che la nuova versione di Windows è influente in una maniera inimmaginabile. Si passa da 167 a 234 fps con il solo aggiornamento di Windows con il 7800X3D. Questo è incredibile ragazzi, cioè è veramente pazzesco. Ma soprattutto sapete cos'è pazzesco? Che il 5800X3D dal fondo della classifica stia menando gli stessi fps del 7950X3D e prima dell'aggiornamento anche del 7800X3D. Praticamente questo aggiornamento sembrerebbe quasi che effettivamente rilasci gli fps che prima erano, come potete vedere, tarpati perché tutta questa linea che rimane più o meno in questa zona è la 23H2 e quindi effettivamente facendo l'aggiornamento potete vedere come si rilascia una quantità di fps veramente notevole anche in questo caso in 1440p. Secondo me siamo di fronte a una svolta veramente molto importante. Per la prima volta un aggiornamento del sistema operativo da tanti anni è incisivo in maniera netta in quella che è la prestazione finale e l'esperienza di utilizzo di un PC. Sono molto interessato alla cosa. Quindi il concetto generale per arrivare alla fine di questo video ragazzi è che Ryzen 9000 è effettivamente una generazione che è uscita con un po' di rallentamenti sta portando in giro qualche pesetto e con la nuova versione di Windows si possono notare dei miglioramenti che oscillano dallo 0 al 35% con una media generale calcolata da Hardware Unboxed intorno al 10-11%. Questo però, a differenza di quanto ci riporta AMD non vale soltanto per Zen 5 ma sembra avere appunto una valenza anche per Zen 4. Ora, non ho in casa il 5800X3D o comunque una Testbench M4 però sono curioso di vedere se effettivamente questa cosa poi si rifletta anche sulle generazioni pre-M5 quindi i 5000 in giù perché effettivamente non farebbe che aumentare ulteriormente la longevità di questa generazione rendendola penso una delle più iconiche della storia dell'hardware alla fine diciamocelo. 5800X3D è un processore della madonna ha rivoluzionato il mercato e poi è stato sostituito egregiamente dal 7800X3D ma siamo ancora lontani dal valore che ha rappresentato questo piccolo quadratino di silicio nel nostro mercato. Ad ogni modo, il concetto di questo video è riassumibile secondo me con un commento sotto al video di Hardware Unboxed. Quindi, il rilascio di Zen 5 ha incrementato le mie gaming performance del 10% e non l'ho neanche dovuto comprare. Davvero un momento AMD. Totale. Raga, è come con la FMF non devi comprare niente e ti ritrovi con più FPS del giorno prima. Bellissimo. AMD, letteralmente, questo è il modus operandi migliore del mondo. Almeno non ci fai piangere con processori che crashano, ritiri e assenza di comunicazioni come qualcun altro. Speriamo risolvano. Ad ogni modo, questo ragazzi è il concetto generale. Questo era un episodio di More Than News in cui un pochettino volevo fare un commentary su quelle che erano le novità per quanto riguarda l'universo di Ryzen 9000 perché mi spiaceva lasciarlo lì in braghe di tela con, insomma, la mia recensione che al momento risulta giusta ma incompleta perché effettivamente il distacco rispetto a Intel diventa maggiore nell'ambito del gaming ma rimane pressoché uguale alla fine della fiera con invece la generazione precedente. Quindi il concetto è che se siete su Ryzen 7000 probabilmente non vorrete in alcun modo fare upgrade ma non sarebbe stato sensato a prescindere. Se siete su Ryzen 5000 potete anche aspettare un attimino di vedere se magari le prestazioni con la nuova versione di Windows non migliorano e non vi soddisfano di nuovo. se magari eravate lì tentennanti per fare un upgrade e se siete su Intel beh, buona fortuna. Per il resto, per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo e state su Mortal Tech Salamusa!